ben trovati con le notizie della redazione di telecattolica apriamo con lucera la sede dell'agenzia delle entrate resterà aperta il sindaco antonio tuto lo ha incontrato la direzione regionale dell'enter per trovare un accordo sulla collocazione idonea dell'ufficio ma sentiamo i dettagli nel servizio il sindaco di lucera antonio tutolo ha incontrato il direttore regionale dell'agenzia delle entrate di bari per discutere della situazione degli uffici di lucera per i quali era stata disposta la chiusura l'incontro sembra sia stato abbastanza positivo perché il dirigente regionale si è detto disponibile a lasciare gli uffici a lucera ma chiedendo uno spostamento dell'attuale sede di via san domenico in un'altra struttura idonea in breve tempo il sindaco ha ribadito la volontà di trovare un'altra sede nell'occasione accompagnato per un sopralluogo i rappresentanti regionali in alcuni edifici che si presterebbero all'utilizzo richiesto e con i requisiti necessari uno tra tutti l'ex sede dell'assessorato e servizi sociali di via petrarca che però avrebbe bisogno di alcuni interventi di riqualificazione durante l'incontro il sindaco tutolo ha chiesto e al momento pare ottenuto la continuità del servizio dell'agenzia delle entrate nell'attuale struttura di via san domenico anche perché da un ultimo rilievo tecnico non vi sono segnali di pericolo strutturale intanto oggi è confermata la manifestazione dalle 15.30 alle 17.30 davanti alla sede dell'agenzia delle entrate di lucera che vedrà riunirsi tutte le forze politiche della città e i cittadini contro il rischio di chiusura di altri uffici pubblici piano urbanistico generale di foggia c'è stata una giornata di incontri per l'amministrazione comunale con l'ente autonomo fiere di foggia asl foggia ed arca capitanata il vice sindaco e assessore con delega all'urbanistica paolo la torre ha commentato riteniamo di essere sulla traiettoria giusta intrecciando ed armonizzando bisogni ed opportunità di una città che ha tutte le carte regola per guardare al domani con ottimismo i suggerimenti e le indicazioni ricevute raccontano una foggia in movimento i cui protagonisti istituzionali vivono una fase di fermento in termini di idee e progetti il piano urbanistico generale luogo in cui far vivere con il quale guidare queste energie ha concluso l'assessore foggiano la torre la regione puglia ha firmato un protocollo con la russia di cooperazione scientifica nel settore medico nucleare della ricerca oncologica e della gestione ospedaliera sentiamo i dettagli a bari presso la sede della presidenza della regione puglia è stato siglato un memorandum tra l'azienda di stato della federazione russa rosatom assieme alla sua partecipata isotope l'università sechenov di mosca la regione puglia il sistema universitario pugliese e la rete oncologica pugliese costituita presso ares puglia la sottoscrizione del memorandum ha l'obiettivo di ragionare insieme sull'oncologia del terzo millennio e sugli sviluppi della ricerca e della medicina nucleare l'ottica naturalmente quella di stringere accordi bilaterali tra la puglia e la russia soprattutto in tema di utilizzo di radiofarmaci nella medicina nucleare la rosatom infatti è la più grande produttrice al mondo di radioisotopi noi speriamo di sviluppare la nostra collaborazione con l'italia e in particolare con la regione puglia dichiarato la rappresentante dell'università sechenov di mosca marina sekachev perché per quanto riguarda la medicina nucleare la puglia è il paese che maggiormente lavora nella direzione più promettente per lo sviluppo dell'oncologia la vigilessa elisa matera come veniva chiamata da decenni ad apricena va in pensione con una lettera di saluti scritta al sindaco l'ispettrice della polizia locale di apricena ha voluto salutare amministratori colleghi e cittadini una donna indivisa la prima ad averla indossata nella storia di apricena e dell'intera regione puglia che amava il lavoro più di se stessa dichiarato il sindaco di apricena antonio potenza un onore per l'amministrazione comunale averla avuta al proprio servizio per quasi 40 anni auguri di cuore da tutta l'amministrazione comunale che possa godersi la pensione con i suoi cari e realizzare i propri desideri è stato appunto l'augurio del sindaco apricenese il prospero fest 2019 di monopoli si avvia al gran finale per ultimi quattro giorni ospita un parterre di autori per riflettere tra letteratura musica teatro e arti sui temi salienti dei nostri giorni vediamo il servizio nove giorni di letteratura musica teatro e arti in programma dal 9 al 17 novembre nella biblioteca rendella di monopoli il prospero fest il festival che arricchisce durante il periodo autunnale la cittadina sud di bari con eventi culturali tra le righe del presente il tema della seconda edizione della rassegna letteraria caratterizzata da un ricco programma in grado di aprire spazi di riflessione culturale sulle questioni salienti dei nostri giorni tanti gli autori e gli ospiti che animano il prospero fest 2019 da michele mirabella già luigi nuzzi da marcello veneziani a giuseppe civati da luciano canfora luca bianchini per citarne alcuni in occasione del secondo compleanno della biblioteca comunale spazio polifunzionale dedicato alla letteratura alle arti alla cultura popolare al turismo restituito alla cittadinanza l'11 novembre 2017 saranno inaugurati tre nuovi spazi il music club il food lab e il nuovo ufficio di informazioni e accoglienza turistica attrezzato nella sala dei pescatori della rendella realizzati grazie al contributo dell'avviso pubblico smart in puglia community library a essere presentata anche la nuova brand identity della biblioteca incentrata sul suo rapporto con il mare la biblioteca è situata infatti in un edificio che in passato ha ospitato il mercato ittico e dalle stanze di lettura si gode di un panorama unico dell'area portuale di monopoli in una società fatta appiattita su una comunicazione di massa su rapporti su una comunicazione che avviene soltanto virtualmente noi sfidiamo lanciamo una sfida e facciamo degli incontri dei dibattiti in cui ci si incontra personalmente e in cui ci si rifletta anche su quelli che sono i temi di attualità temi del presente parleremo di giustizia di caporalato parleremo di linguaggio di comunicazione di massa quindi tante possibilità di riflessione di incontro di incontro di confronto costruttivo nell'ambito della festa di sand martina sansevero organizzata come ogni anno dall'associazione daonia e noica in collaborazione con l'amministrazione comunale assessorati alle attività produttive e cultura dal 15 al 24 novembre si terrà una serie di eventi il 15 novembre presso il foyer del teatro verdi si terrà un convegno dal titolo viticoltura quali prospettive di sviluppo per il territorio il il 16 novembre presso la galleria schingo sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al paesaggio nel periodo autunnale promossa dall'assessorato alla cultura e allestita dal circolo fotografico estate 1826 sempre alla galleria schingo nell'ambito di questa mostra venerdì 22 novembre si svolgerà uno stage sulla tarantella di carpino e dal 14 al 24 novembre presso la biblioteca minuziano sarà allestito un banco dove sarà possibile come ogni anno consultare al momento tutte le pubblicazioni riguardanti il territorio la produzione viticola e la sua storia sport pallavolo la sd foggia volley centra la prima vittoria in trasferta nel campionato femminile di serie c girone b una partita vinta per 3 a 1 le rossonere già nel primo set 23 a 25 hanno dimostrato determinazione voglia di riscattare le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due giornate di campionato nel secondo set 25 a 21 le ragazze di tauro non sono riuscite a vincere complice qualche piccola distrazione ma grazie alla grinta le rossonere hanno centrato la vittoria prima nel terzo set 25 a 27 poi nel quarto 23 a 25 attualmente la sd foggia volley si trova a sei punti in classifica chiudiamo con due appuntamenti cominciamo con questa sera le 20 e 30 presso la cremeria letteraria in piazza duomo a lucera sarà ospite paolo colagrande finalista al premio campiello 2019 che presenta il suo libro la vita dispari edito da einaudi conversa con l'autore michele colucci mentre domani 15 novembre alle ore 18 presso il circolo unione sempre in piazza duomo a lucera si terrà la presentazione del libro il giudicato l'incontro con l'autore giuseppe sciretta moderatore giornalista silvio di pasqua interverrà luigi colomba che presidente della quarta commissione del comune di lucera e con questi due appuntamenti letterari chiudiamo il tg grazie per essere stati con noi arrivederci alla prossima ciao